Quel che stai vedendo è il contenuto dell'album numero 12, disegni per l'autunno. Così potrai dipingere tutte le composizioni autunnali che ti piacciono. E se non sai disegnare puoi provare a copiarle. Con questi disegni che stai vedendo ho già realizzato dei tutorial che sono sul mio canale YouTube L'Arte a Modo Mio. Affrettati, altrimenti l'autunno finisce. Lo trovi in vendita online, ti lascio il link qui sotto in descrizione. E troverai anche i link degli 11 album precedenti.